Bella a tutti frienze e benvenuti in un nuovo video, ci troviamo su Fortnite oggi vi faccio vedere la sfida che ci richiede di ottenere i 15 rimbalzi in un sul colpo con la palla rimbalzante io sto registrando questo video anticipatamente perciò il titolo potrebbe variare di qualcosina però la sfida è esattamente questa che vi vado a mostrare innanzitutto dobbiamo ottenere e sbloccare la palla rimbalzante che si ottiene come vi faccio vedere ora a livello 26 del pass battaglia a pagamento dal momento che abbiamo sbloccato questa palla possiamo passare nel nostro armadietto e dobbiamo andarla a selezionare così potremo effettuare questa sfida ancora più velocemente quindi palla rimbalzante andiamo a selezionarla a meno ce l'abbiamo qui nelle nostre e molto predefinite sarà molto più semplice poter lanciare questa palla rimbalzante ci spostiamo in game ora io lo start in modalità parco giochi però mi raccomando voi andate ad effettuare questa sfida in una modalità qualsiasi tra queste eccetto parco giochi e creativa io lo start in parco giochi perché come già vi ho detto sto registrando questo video anticipatamente quindi non voglio avere nessun nemico che mi sta attorno dandomi solamente fastidio mentre registro il video per effettuare questa sfida c'è un piccolo trucchetto che ora vi vado a mostrare prima però vi invito ad iscrivervi a questo canale attivate la campanella delle notifiche e andatemi anche a seguire su instagram r4scot-youtube perché ad inizio del prossimo mese farò dei contest dove vi vado a regalare dei vbucks perciò se volete ottenere dei vbucks totalmente gratuiti iscrivetevi a questo canale attivate la campanella delle notifiche e andatemi a seguire su instagram ora io sto raggiungendo questo edificio questo mini castellino insomma un'abitazione l'importante che sia stretta e abbia delle pareti molto ravvicinate tra di loro vi mettete in un angolo andiamo a selezionare tra le moto del nostro armadietto questo giocattolo che come vi ho fatto vedere prima lo abbiamo selezionato tra le moto di default quindi sarà molto molto più semplice da utilizzare e andiamo a lanciare il giocattolo dobbiamo fare 15 rimbalzi ora vediamo in basso sulla sinistra abbiamo fatto 22 rimbalzi e la sfida sarà effettuata ora a me non mi da nulla perché come già vi ho detto sto registrando questo video anticipatamente però al momento che dovrete andare a effettuare queste sfide avrete uno di uno e questa challenge è completata quindi io vi consiglio di andarvi a rintanare in una casa in una struttura molto piccola come questa con i muri ravvicinati uno all'altro così potrete effettuare questa sfida nel tempo più breve in assoluto ora vi faccio vedere un altro lancio vediamo un po' quanto tempo ci vado a mettere scusate quanti rimbalzi vado a fare o addirittura 28 rimbalzi signori iscrivetevi a questo canale attivate le campanelle notifiche se vi interessano le sfide sia di questa settimana perché usciranno altri video nel dettaglio delle sfide della settimana 5 ma anche se vi interessano tutte le sfide che arriveranno nel mondo di fortnite perciò iscrivetevi al canale attivate la campanellina delle notifiche e condividete questo video almeno anche i vostri amici avranno modo di effettuare questa challenge nel minor tempo possibile noi ci vediamo più tardi con altri video sempre dedicati alle sfide e le belle messe amiche